Musica Scusi ragazzo che sei drogato? E' mica via del gioco giusto? Assolutamente si E allora tieni e ricorda che da grandi poteri derivano grandi responsabilità Grazie Davide Pronto agente Erone? E' fatta, ho un'arma potentissima Ok, avviso la comandante Hai il gioco giusto Ok Il gioco giusto Sì? E' fatta domandante Signorina Morelli no Come le ho detto non voglio essere disturbato quando c'è accanto a Lombardia Mi ha fatto perdere i fratelli Viganò Ho appena c'è una chiamata dall'agente Erone Cosa vuol dire? L'operazione Zappa Costa è andata a buon fine Che notizia di vittoria morale Corriamo subito E' fattaio Cosa vuol dire? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Perfetto Signor Chiusino, il contenuto di questa scatola potrebbe essere per lei l'inizio di cross stellari E di favolose tunnelle Sì, ma con cautela Troppo, troppo anche per me no Perfetto 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 Perfetto